la scomposizione che abbiamo svolto e calcolato del momento angolare totale di un sistema di numero discreto arbitrario di punti materiali può essere deve essere messa in corrispondenza con ciò che è in grado dinamicamente di variare il momento angolare di un punto o di più punti materiali ovvero i momenti di forze allora questo può essere fatto in maniera relativamente semplice partendo proprio dalla nostra relazione fondamentale che è il primo teorema insomma un numero non importa come già detto più volte di scomposizione del keening che prevede che il momento angolare totale del nostro sistema l con o rispetto a un polo fisso riferimento inerziale si esprima come la somma di un momento angolare intrinseco interno relativo al sistema del centro di massa più un momento angolare esterno orbitale quello che si ottiene moltiplicando vettoriamente la coordinata del centro di massa per la sua quantità di moto cioè la quantità di moto totale del sistema questa è la relazione alla quale siamo arrivati e in questa ricordo che il momento angolare riferito al centro di massa è per definizione la somma su tutte le particelle dei momenti angolari riferiti alla posizione del centro di massa quindi agli r con i e abbiamo indicati con cm rispetto ai moltiplicati per le velocità misurate nel centro di massa delle nostre particelle dei nostri punti materiali allora quello che vogliamo fare adesso è costruire una relazione una corrispondenza formale fra diciamo pure causa ed effetto e l'effetto che vogliamo misurare l'eventuale variazione del tempo del momento angolare quindi noi adesso dobbiamo proprio misurare la variazione del momento angolare del sistema e allo scorrere del tempo noi sappiamo già che c'è la seconda equazione cardinale della dinamica che ci prevede che questa grandezza viene data in termini del momento risultante causato dalle forze esterne che agiscono sul sistema riferito al sistema di laboratorio cioè al polo fisso che stiamo utilizzando. Ora vediamo cosa succede derivando rispetto al tempo questa relazione la relazione di Koenig di scomposizione del momento angolare del sistema di punti iniziamo a derivare rispetto al tempo il secondo addendo questo è molto semplice questo primo passaggio dobbiamo fare la derivata e rispetto al tempo del prodotto esterno rcm con quantità di moto totale lo scriviamo pure ma è immediato vedere che si riduce subito a un singolo termine perché la derivata rispetto al tempo di rcm è vcm esterno a p e poi abbiamo la derivata rispetto al tempo del secondo fattore tenendo fermo il primo quindi più rcm per dp su dt ora questo termine non c'è cioè è 0 perché p totale è m totale per vcm e quindi stiamo facendo il prodotto esterno di un vettore con un altro parallelo e dunque questo prodotto si annulla rimane il secondo addendo che vedete che si può anche scrivere subito come il prodotto esterno di rcm per il risultante delle forze esterne che agiscono sul sistema perché perché questo questa derivata viene espressa tramite la prima equazione cardinale della dinamica proprio in termini del risultante delle forze esterne quindi derivando rispetto al tempo questo contributo della scomposizione del momento angolare otteniamo questa grandezza ci ritorniamo con un commento conclusivo però prima deriviamo rispetto al tempo il momento angolare intrinseco per vedere che cosa succede il momento angolare intrinseco lo dobbiamo derivare a partire proprio dalla sua espressione e quindi ci armiamo di un po' di pazienza e procediamo con questa derivata quindi dobbiamo fare dlcm su dt allora abbiamo la sommatoria delle m con i e abbiamo un primo pezzo che si ottiene derivando l'rcm con i rispetto al tempo e quindi la derivata da un vcm con i esterno a vcm con i esterno a vcm con i più e adesso derivo rispetto al tempo il secondo fattore proprio esterno cioè il vcm con i e allora abbiamo più somme m con i e quindi rcm con i esterno alla derivata delle velocità delle masse riferite al centro di massa e quindi queste sono le accelerazioni delle nostre masse riferite al centro di massa osserviamo subito che questo pezzo è ovviamente nullo perché abbiamo il prodotto esterno di vettori con loro stessi e quindi questo questi prodotti sono uguali a zero e ci togliamo subito questo questo contributo invece per quello che riguarda quest'altro contributo osserviamo che c'è un m con i per acmi e acmi è una accelerazione riferita al centro di massa che posso riscrivere subito in questo modo abbiamo somme sui n mi rcm i esterno a scriviamo le accelerazioni delle masse riferite al polo fisso meno l'accelerazione del centro di massa è quella complessiva ho applicato la solita traslazione e il risultato di questa cosa è che ho ora i due termini che sono mettiamo magari subito prima un rcm i esterno a m con i a i e abbiamo scritto questo termine per questo e poi dobbiamo sottrarre un meno somme i mi rcm i esterno a acm senza i perché questa è l'accelerazione del centro di massa messo insieme e vedete però che succede una cosa comoda perché di nuovo questo oggetto si annulla perché perché esso a parte una massa totale rappresenta ci è già capitato due volte ormai in questi conti la posizione del centro di massa vista dal centro di massa basta dividere questa espressione per la massa totale questa proprio è la coordinata vettoriale del centro di massa nel riferimento del centro di massa quindi risponde alla domanda dov'è il centro di massa stando nel centro di massa è lì dove siamo e quindi coordinata vettoriale nulla questo è il vettore nulla quindi rimane solo questo oggetto che possiamo anche scrivere con ov intenti somme i che vale a 1n rcm con i esterno a f con i cioè ho scritto al posto di m a i a con i la forza totale che agisce sulla massa iesima che posso scomporre con somma della forza che sulla massa iesima agisce di origine esterne al sistema e una iesima che agisce di origine interna al sistema come abbiamo già avuto modo di fare allora questa somma diventa questa sommatoria diventa si ricostruisce come due sommatorie che sono le scrivo qua sotto perché poi abbiamo una di nuovo una cosa comoda abbiamo l'rcm i esterno alla forza iesima esterna più somme i rcm i esterno alla forza iesima interna cosa abbiamo scritto ma abbiamo scritto essenzialmente due risultanti di momenti di forze riferiti entrambe al centro di massa del sistema guardiamo il secondo prima e questo è il risultante dei momenti delle forze interne che agiscono sulle n masse misurato questo risultante a partire dal centro di massa perché le coordinate sono quelle riferite al centro di massa quindi qui stiamo sommando tutti i momenti delle forze interne riferite a un certo polo questa cosa non può che fare zero perché veglia su di noi il terzo principio della dinamica per il quale già sappiamo deve accadere che il risultante il sistema diciamo così di forze interne è un sistema di forze che a coppie presenta una caratteristica di avere braccio nullo cioè il momento risultante è uguale sempre a zero questo l'avevamo utilizzato assieme al risultante delle forze interne il suo annullarsi per ottenere e scrivere le due equazioni cardinali della dinamica dei sistemi questo è un vettore nullo per il terzo principio della dinamica tutta la strada quindi che abbiamo fatto ci ha condotto a ottenere un risultato molto semplice ma anche a contempo molto importante cioè lo riscrivo dlm dlcm su dt cioè la derivata rispetto al tempo del momento angolare totale del sistema riferito al centro di massa è un momento quale? il momento risultante delle forze esterne che agiscono sulle singole particelle riferite al centro di massa ovvero è proprio questa quantità che abbiamo appena salvato da tutta questa sequenza di semplificazioni sommatoria per i che va da 1 a n di tutti questi momentini singoli delle forze esterne quelle interne hanno momenti nulli misurati sulle singole masse a partire dal centro di massa quindi ancora una volta pensate allo sciame, alla nuvola di particelle col suo centro di massa pensate che su ogni massa agisce una forza interna e una forza esterna così abbiamo riorganizzato l'insieme di tutte queste forze e per ognuna delle forze interne su ogni massa calcolate rispetto al centro di massa il momento risultante ottenete zero perché avete sempre forze che agiscono in questo modo il risultante dei momenti delle forze che esternamente agiscono sulle sulle masse allora vedete che cosa abbiamo ottenuto lo riassumo in una nuova lavagna avevamo un calcolo di derivata del momento angolare totale del sistema di particelle e la sua corrisponente causa che per l'equazione cardinale è il momento risultante delle forze esterne rispetto allo stesso polo che abbiamo scelto come riferimento del sistema inerziale del laboratorio la derivata del momento angolare totale rispetto al tempo nel sistema di laboratorio è stata scomposta in due contributi in due parti e ce n'è un primo che avevamo calcolato all'inizio della lavagna precedente che è un momento di forza quale? il risultante delle forze come un'unica forza esterna preso questo momento rispetto al centro alla posizione del centro di massa e questo momento è chiaramente un contributo a questa parte a questa grandezza che giustifica una parte della risposta dinamica del sistema ma non è tutto perché può variare anche il momento angolare interno del sistema cioè l'LCM di T quindi c'è la parte di DL interna dello spin come volete chiamare rispetto al tempo che è un altro momento di forza ha la struttura ovviamente di momento di forza nella forma che abbiamo visto prima è un potremmo chiamarlo tau delle forze esterne riferito al centro di massa ovvero la somma dei singoli contributi di momento riferito al centro di massa delle forze esterne singolarmente agenti sulle particelle cioè le forze esterne si fanno sentire in due modi le sommate prima a ottenere il loro risultante e riferite questo risultante nella situazione di momento rispetto alla posizione occupata dal centro di massa facciamo così voi avete la vostra nuvola di particelle che viene osservata nel laboratorio e ogni particella è soggetta a le forze che le caratterizzano quelle interne le potete dimenticare nell'analisi che stiamo facendo hanno dei ruoli fondamentali per stabilire ovviamente il dettaglio del moto ma non in questa scomposizione che cosa possiamo dire invece beh abbiamo un centro di massa che definisce il sistema diverso dal laboratorio che è quello del centro di massa ora prendete tutte queste masse e prendete per ogni massa le forze che su di esse agiscono esternamente ci sono anche quelle interne ma qui come ho già detto molte volte non sono interessanti per stabilire il senso di questa scomposizione io insisto su questa cosa le forze interne sono fondamentali per determinare il moto dettagliato di ogni singola massa ma adesso noi stiamo facendo un'analisi differente le forze esterne come si comportano beh innanzitutto hanno un primo ruolo in questo termine le dovete sommare per ottenere un risultante quindi un'unica forza che potete applicare pensare applicata al centro di massa alla coordinata del centro di massa che non vuol dire una massa ma un punto geometrico e poi voi andate a vedere dov'è il centro di massa nel sistema di laboratorio nella sua posizione RCM e il risultante delle forze esterne se ce l'ha un momento rispetto al polo O giustifica la variazione del momento angolare orbitale cioè quella parte che avevamo appunto indicato come L e CM che era dato da RCM esterno a P il centro di massa ha la sua quantità di moto quella che si chiama quantità di moto del sistema quindi rispetto al polo O ha un momento angolare questo LCM che varia nel tempo per causa dell'azione della forza esterna questo però non è il momento angolare del sistema rispetto al laboratorio il momento angolare del sistema rispetto al laboratorio è quello che varia nel tempo è la L con O la sua variazione del tempo è stabilita dal risultante momento risultante delle forze esterne e per ottenere l'effetto complessivo dobbiamo vedere come varia se varia il momento angolare interno del sistema e questo cambia se tutte le singole forze esterne hanno riferite al centro di massa un momento quindi voi dovete prendere adesso rispetto al centro di massa il momento di questa forza il momento di questa forza il momento di questa forza e così via per tutta sommate tutti questi momenti in questa sommatoria il risultante si chiama lo indichiamo con questo tau esterno rispetto al centro di massa se è diverso da zero questo giustifica la variazione del momento angolare riferito al centro di massa cioè dello spin pensiamo per esempio a una situazione molto concreta meno generale ma è per esemplificare la questione un po' meglio voi lanciate nel riferimento xy fate l'osservazione del lancio di per adesso un punto materiale che soggetto unicamente alla sua forza di peso procede secondo una traiettoria parabolica come ben sappiamo noi abbiamo risolto il problema dinamicamente scrivendo che il risultante delle forze cioè il peso è basta in questo caso il punto concide col suo centro di massa non fa altro che accelerare il punto stesso costruendo quindi poi quella che è la sua la sua traiettoria possiamo anche dire però del tutto equivalente che l'azione dinamica della forza peso è quella di modificare il momento angolare del punto rispetto all'origine delle coordinate perché in ogni istante voi potete benissimo pensare che magari per non fare confusione chiamiamo W qui il peso che siamo più tranquilli direi che meglio ma insomma con un po' attenzione non si fa confusione ma usiamo P grande per la quantità di moto totale allora stavo dicendo che in ogni istante voi sapete che qui avete la velocità della particella che è tangente alla traiettoria quindi questa è la quantità di moto e avete un momento angolare questa è la V ovvero anche la P piccola e avete un momento angolare del punto rispetto al polo O questo momento angolare è costante no perché c'è un momento di forza esterna il peso W cambia il momento angolare della massa e questo è esattamente equivalente ad aver scritto l'equazione del moto cioè invece che aver scritto il peso forza esterna è uguale alla massa per la accelerazione ovviamente è possibile anche scrivere che il momento della forza peso è uguale a m r esterno alla accelerazione quindi alla dv su dt che equivale a scrivere ovviamente che siccome la quantità di moto l della nostra massa è r esterno a p questo equivale a scrivere ovviamente che il momento delle forze è proprio dato da dl o in questo caso rispetto al tempo quindi questa è l'equazione della dinamica riorganizzata per quello che riguarda la scrittura col momento angolare supponiamo però che invece che un punto ci sia adesso un sistema di due corpi che sta volando sotto l'effetto del peso e di altre forze quindi abbiamo eventualmente di altre forze quindi abbiamo una situazione di questo genere adesso abbiamo la nostra tradittoria e cosa lanciamo lanciamo un un bilanciere un'asta qualcosa che è fatto come un una sbarretta senza massa rigida con due masse attaccate lo stesso bilanciere con il quale ci siamo divertiti a descrivere gli effetti della seconda equazione cardinale della dinamica e in qualunque istante il sistema è caratterizzato e sottoposto all'azione del proprio peso e il proprio peso è ora raccontato in termini di due forze magari mettiamole a masse uguali ma anche se fossero differenti non cambierebbe nulla l'importante è che adesso abbiamo forze esterne ci sono forze interne certo che tengono assieme rigidamente le due masse ma dimentichiamo il loro effetto perché stiamo studiando il comportamento del sistema dal punto di vista degli effetti delle forze esterne cioè delle equazioni cardinali della dinamica e della scomposizione secondo Koenig del momento angolare centro di massa è qui fra le due masse a metà se le due masse sono uguali e io dico che il centro di massa si muove rispondendo alla forza esterna che è il peso totale 2W e questo fa variare la quantità di moto totale del sistema esattamente come prima cioè che io abbia un punto o abbia un bilanciere questo non cambia assolutamente la storia è interessante adesso vedere cosa succede dal punto di vista degli effetti dei momenti delle forze le equazioni che dobbiamo usare sono le stesse che abbiamo ottenuto con la scomposizione di Koenig quindi scriviamo il momento angolare riferito al polo O come somma del momento angolare del centro di massa quindi RCM lo scriviamo esplicitamente per ricordare la relazione di prima per la quantità di moto totale RCM in questo caso è la R la coordinata dell'esempio di prima in cui avevamo solo un punto che faceva la territoria parabolica e poi abbiamo il momento angolare intrinseco l'L di spin cioè quello che presentano le due masse riferite al centro di massa se ce l'hanno come fanno avere un momento angolare rispetto al centro di massa beh dovrebbero per esempio ruotare necessariamente una da una parte e una dall'altra attorno al centro di massa se lo fanno vediamo adesso però l'equazione cardinale della dinamica la seconda cosa ci prevede cioè il DLO su DT deve essere il Tau del risultante delle forze esterne in questo caso le forze esterne sono le forze del peso quindi scriverò ancora una volta il prodotto esterno di RCM per 2W perché queste sono tutte e sole le forze esterne che esiscono sul sistema e vi ricordo però abbiamo fatto un gran lavoro poco fa per scomporre questo DLO su DT nella derivata rispetto al tempo di questi due pezzi allora vedete che la derivata rispetto al tempo di questi due pezzi dà la prima proprio l'RCM esterno alla variazione nel tempo della quantità di moto totale cioè proprio di 2W e abbiamo finito non c'è altro perché non c'è altro perché ci dovrebbe essere il dlcm su DT ma questo pezzo ora evidentemente deve essere un vettore nullo perché ce lo dice il risultato che abbiamo appena scritto cioè questo è tutto quanto è la variazione del momento angolare cioè proprio questo quindi questo termine deve essere 0 perché è 0 e cosa vuol dire fisicamente che è 0 fisicamente che è 0 vuol dire che il momento angolare rispetto al centro di massa non cambia e perché non dovrebbe cambiare allora le forze che agiscono sul sistema esterno in questo caso sono solo le forze dei pesi delle masse allora vediamo come si calcola il momento totale delle forze esterne in questo caso qui rispetto al centro di massa cioè il Tau esterno rispetto al centro di massa lo si ottiene sommando come abbiamo visto in generale di R CM con I per esternamente le forze esterne iesime però le forze esterne sono i pesi in questo caso quindi sono del tipo M I G dove M I è la massa iesima e allora questa cosa fa somme I che vale 1 N R CM I per M I G ma riorganizziamola in modo comodo ai nostri scopi cioè scriviamo somme I N R CM I M I tutto sotto il simbolo di sommatoria per parte vettoriale esternamente al vettore G e vedete che ancora una volta osserviamo che questo è il solito termine che è il vettore nullo perché è la posizione del centro di massa meno di una massa totale vista dal centro di massa allora questa cosa fa complessivamente zero cioè il momento delle forze esterne riferito al centro di massa quando le forze esterne sono i pesi è nullo quindi vuol dire che il momento angolare riferito al centro di massa quando c'è il peso in azione non può cambiare cosa vuol dire fisicamente vuol dire che se per esempio io lancio questa matita e col suo centro di massa a metà perché in realtà non è una matita ma è una sticella leggera con due biglie agli estremi come ho disegnato qui questo oggetto verde e la lancio con un certo momento angolare vuol dire con una certa rotazione rispetto al centro di massa questa rotazione rimane invariata inclusa quando rotazione non c'è per esempio se il momento angolare della bilanciera è zero all'inizio cioè in questo disegno non c'è rotazione le due masse traslano e basta allora quello che succede è che durante il moto il centro di massa fa il suo volo parabolico che ci è ben chiaro e le due sbarrette e le due masse attaccate alla sbarretta se all'inizio non aveva un momento angolare quindi non stanno ruotando attorno al centro di massa continuano a non ruotare e quindi mantengono l'orientazione fissa rispetto a un angolo iniziale oppure se hanno una velocità di un radiante al secondo all'inizio questa velocità la mantengono perché questo equivale a non modificare il momento angolare relativo al centro di massa questo è sistematico quando abbiamo un sistema di forze che è caratterizzato dall'uniformità perché sono forze parallele come nel caso delle forze peso se le forze esterne invece sono in grado di generare un momento riferito al centro di massa questo farà variare il momento angolare sempre riferito al centro di massa il risultante delle forze invece la forza totale esterna è lei questo risultante irresponsabile della variazione del momento angolare orbitale cioè quello del centro di massa rispetto al polo fisso parlando di sistemi di forze spero che sia chiaro che quando noi scriviamo le due equazioni cardinali quindi che la quantità di moto del sistema totale cambia se ho un risultante di forze cioè una somma delle forze esterne che agiscono su ogni massa ma poi abbiamo anche una variazione rispetto a un polo fisso del momento angolare del sistema causato da un momento risultante di forze rispetto allo stesso polo essendo questo dato dalla somma rispetto a questo polo dei momenti delle forze esterne rispetto che agiscono sulle singole masse spero che sia abbastanza chiaro che abbiamo un collegamento concettuale ma anche sostanziale pratico fra le grandezze cinematiche che sono il momento totale e il momento angolare totale quindi questi sono gli effetti e le cause dinamiche che sono le forze e i momenti delle forze allora possiamo anche dire così che il sistema nel suo complesso di n masse è caratterizzato da il risultante delle forze e dall' insieme delle forze che agiscono quindi questo si chiama un sistema di forze che agiscono sul sistema collocandole opportunamente quindi con i punti applicazioni che sono le masse per vedere gli eventuali momenti generati rispetto a un polo di riferimento un sistema di forze quindi con la conoscenza delle n forze sulle n masse mi dirà tutto il moto dettagliato di ogni singola massa però se ci limitiamo a considerare i risultanti vettoriali delle forze e dei loro momenti otteniamo comunque un'informazione completa che riguarda la collettività del moto cioè il moto del centro di massa e il moto relativo rotazionale al centro di massa quindi traslazioni e rotazioni del e attorno al centro di massa se noi cambiamo le forze singole pur mantenendo uguali i loro risultanti e i risultanti dei momenti il sistema nella sua complessa da un punto di vista completo collettivo cioè moto del centro di massa risponde allo stesso modo le singole masse potranno muoversi diversamente ma il loro centro di massa e il momento angolare attorno al centro di massa saranno gli stessi anche se i sistemi di forze singolarmente presi sono gli stessi pur che abbiano lo stesso risultante e lo stesso momento risultante ecco allora sistemi di forze che hanno queste caratteristiche pur essendo forze differenti ma con uguali risultanti momenti risultanti sono molto importanti i sistemi equivalenti ovviamente quando si ha a che fare con i sistemi di particelle rigidi fissati nelle loro posizioni relative perché in questi casi la conoscenza dei risultanti delle forze dei momenti risultanti ci dice tutto sul sistema e quindi poter costruire sistemi equivalenti di forze è molto importante nella determinazione degli effetti cinematici su un corpo rigido quindi sono equivalenti i sistemi di forze che hanno uguale risultante e momento risultante vi faccio un esempio se voi prendete è molto importante questo esempio l'abbiamo già intravisto insomma un sistema di forze caratterizzate dal loro parallelismo cioè prendete un sistema di frecce un insieme di frecce che sono tutte differenti in generale ma in comune hanno una direzione diciamo che queste hanno una direzione comune assegnata da un versore U e hanno la loro intensità F con I sono delle frecce F con I e I va da 1 a N un sistema di N forze e vorremmo caratterizzare vedere se è possibile trovare una rappresentazione equivalente a queste ovvero stabilire qual è il risultante delle forze e il momento risultante rispetto a un polo O allora fissato il polo posso benissimo farmi la domanda quant'è il momento rispetto a questo polo allora basta che io mi metta a tracciare le posizioni e via dicendo di tutte le i punti di applicazione delle forze rispetto a questo a questo polo allora vediamo un pochino come si caratterizza questo sistema è molto semplice ciascuna forza F con I è espressa come la sua proiezione F con I sulla direzione quindi il versore U il risultante forza chiamiamola totale è la somma delle forze F con I e ovviamente la posso scrivere come la somma adesso algebrica delle proiezioni dei numeri F con I consegno lungo la direzione U adesso calcoliamo il momento risultante rispetto a questo polo O cioè calcoliamo il tau O totale sottointeso e questo si ottiene per definizione come la sommatoria degli R con I esterni alle F con I e quindi è dato dalla sommatoria per i che vado a 1 N delle R con I scriviamo vicino subito le proiezioni F con I mettiamo tutto fra parentesi come abbiamo imparato ormai a fare e mettiamo solo la parte vettoriale a valle di questa espressione allora adesso ci inventiamo una grandezza che si chiama centro delle forze parallele centro delle forze parallele di questo sistema di forze che è una posizione che chiamiamo R centro delle forze R con CF e è definito quindi non chiedetevi ma da dove arriva è una definizione questa come fra un attimo direte ah ah comincio a capire perché la sommatoria delle F con I per RI questo è un vettore che pesa le posizioni RI dei punti applicazioni di singole forze per la loro intensità rapportato alla somma delle prezioni F con I allora vedete che facendo in questo modo è un trucco perché questo oggetto qui a numeratore ce lo ritroviamo esattamente qui nel calcolo dei momenti è la stessa cosa e ci permette di scrivere in pratica che il tau O il momento totale è dato anche da la grandezza la quantità R centro di forza moltiplicato per il sommatore delle proiezioni F con I cioè questo e ci manca ancora il prodotto esterno di U che è qui lo organizziamo ad arte in questo modo quindi scriviamo RCF adesso e poi moltiplichiamo mettiamo il segno di prodotto vettoriale lo possiamo spostare a sinistra della somma delle forze la scriviamo qui adesso la somma delle forze e delle loro proiezioni questo è un numero e con vicino U perché adesso riconosciamo in questa espressione questa cioè il risultante delle forze e allora questa cosa è RCF esterno a F totale allora cosa abbiamo imparato essenzialmente che un sistema di forze parallele può essere reso equivalente quindi sostituito da un un'unica forza di intensità pari al risultante delle forze e ci mancherebbe quindi il risultante è la somma delle forze questa e però perché sia equivalente a quello originale a questa sequenza di frecce verdi questo risultante di forze deve essere applicato nel punto di coordinata RCF se applichiamo questo risultante F totale nel punto di coordinata RCF otteniamo che il momento di questo risultante è uguale al momento originale del sistema delle forze questo è un esempio di equivalenza di sistemi di forze allora facciamo un unico esempio per chiarire di che cosa si sta parlando prendiamo come forze parallele il sistema delle forze peso le F con I sono le M con I per G allora se facciamo così il centro di forze delle forze peso assume una forma particolarmente semplice innanzitutto si chiama gli do subito il nome baricentro il baricentro è il centro delle forze peso che agiscono su un sistema di punti materiali e lo collochiamo per definizione del centro di forza nella coordinata M con I G questa è l'intensità della forza peso iesima in posizione R iesima diviso la sommatoria dei valori delle forze e vedete che si semplificano le G e rimane una ben nota espressione somme per i che vado a 1 a n delle posizioni delle particelle pesate sulle masse divise per la massa totale e in questo riconosciamo la coordinata del centro di massa allora un sistema di forze peso forze parallele è equivalente dal punto di vista degli effetti complessivi governati dalle equazioni cardinali della dinamica a un'unica forza collocata nel baricentro del sistema che coincide di fatto con quello che già avevamo definito con la sua natura come centro di massa avevo anticipato quindi un commento al volo già fatto ma lo sottolineo una volta che ho scelto le forze peso come sistema di forze collocandomi nel baricentro che coincide nel contesto in cui si stiamo trovando col centro di massa per un sistema rigido di punti è tutto ciò che ci serve per determinare completamente univucamente non ambiguamente la cinematica di questo sistema di particelle cosa che sfrutteremo a partire dalla prossima lezione una cosa appunto che ho anticipato è attenzione bene che il baricentro che è il punto in quale devo collocare un sistema di forze parallele per avere l'equivalenza con un'unica forza risultante somma delle forze coincide col centro di massa solo fin tanto che posso considerare costante le forze del peso sulle singole masse e questo è un'approssimazione perché ben sappiamo che il peso in realtà è una rappresentazione vicina al suolo della forza di attrazione gravitazionale e quindi le forze dei pesi sulle singole masse non sono un sistema di forze parallele semi allontano dalla terra sia perché la loro intensità cambia sia perché cambia anche la loro direzione essendo radiale se non ne siete convinti vi consiglio come semplicissimo esercizio numerico toglietevi questa soddisfazione di prendere la terra col suo raggio r e poi prendete due masse puntiformi uguali m e m una sulla superficie terrestre e l'altra a una distanza r una quota a 6.000 km sopra alla superficie terrestre dov'è il centro di massa di questo sistema ovviamente il centro di massa per come l'abbiamo definito è la media pesata delle posizioni con le masse e quindi si trova a metà fra le due fuori discussione dov'è il baricentro è il centro delle forze peso e le forze peso come sono fatte sono verticali perché le due masse le abbiamo messe radialmente disposte ma questa forza peso è ben diversa di intensità da questa forza peso da quella la massa più in alto provate quindi usando la definizione di centro di forze come media pesata delle forze e non pesata con le forze delle posizioni delle particelle non pesata con le masse a collocare il baricentro di queste due masse vedrete che vi piaccia o no che è ben lontano dall'essere dalla posizione del centro di massa baricentro e centro di massa non sono la stessa cosa non sono